Ultimamente per me e per Yankee Jew è nata l'idea di fare concerti diversi molto, molto anni fa, quando siamo bambini in scuola di Yehudi Menuhin, perché per noi sempre la musica classica è molto importante, molto grande, molto bella, ma molto seria, anche molto seria, la musica non è sempre seria, ma tutto il tipo di concerto è troppo seria per noi, e per noi la musica classica è più diversa, è più felice che molte persone pensano. Penso forse 35 anni fa sono stati i primi esperimenti di noi, insieme, di fare concerti diversi, ma ora 20 anni fa che è la prima volta che faremo le concerti con con concerti. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.